Per tracciare un percorso, seleziona l'unità o un gruppo, quindi seleziona Plot Cores nel menu in alto. Puoi anche premere F3 o utilizzare il menu a discesa degli ordini unità. Fai clic sulla mappa nelle posizioni dei waypoint desiderati, al termine, seleziona Plot Cores di nuovo o premi F3 o Escape per terminare l'azione. Puoi modificare l'unità o la rotta di un gruppo selezionando un waypoint e trascinandolo nella posizione desiderata. Puoi anche aggiungere ulteriori waypoint a una rotta tracciata in precedenza e per farlo, seleziona l'unità o un gruppo. Questo non funzionerà con più unità o più gruppi selezionati. Seleziona qualsiasi waypoint, quindi utilizza uno dei metodi menzionati in precedenza per tracciare una rotta. Quindi, fai clic sulla mappa per raggiungere ulteriori waypoint. Grazie. 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 Grazie.